allora io ho molto paura cosa è successo quella parte con quella parte con il yurgyr praticamente da quello che un po mi sono informato non voluto spoiler tutto però mi pareva molto strano mi è andata molto male perché perché teoricamente attaccano sti topi tu santo un zecchiano perché quello con yurgyr come avete visto c'era i mergon quelli rossi infernali dovevo parlarci doveva partire sarebbe dovuto partire il dialogo invece mi hanno attaccato subito perché c'è stato un buco nell'acqua del design li chiamo buchi dell'acqua dei punti in cui non pensati e veramente mi sono schippato tutta la quest perché sono andate automaticamente in come si dice in nostri ostili sono veramente tutti ostili direttamente per quello c'entrava con la quest di raffael e niente purtroppo devo andare sotto per fare partire il dialogo e poi dopo parlare avere la possibilità di attaccarlo farlo fuori di evitare il combattimento comunque di aiutarlo niente abbiamo fatto in questa cosa qua che non mi è piaciuto tanto così perché sono andato di fianco doveva essere attiato dalla bestia sotto per far partire il dialogo ma di fianco non hanno tenuto conto partito che è ostili e niente abbiamo schippato tutta la parte della quest quindi adesso magari queste cose qua non le sapremo certe cose della quest abbiamo invitato raffael e basta ho paura molto mi hanno mi hanno dei amici mi hanno un po non mi hanno spoilerato però mi hanno un po' avvisato sta attento sta zona perché se fai una scelta succederà uno un casino casino che non voglio sapere io ci provo un proverò ma diamo starò veramente attento non voglio fare massacro in un di noi c'è più di quello che siamo parti molti due che formano i nostri pensieri i nostri desideri e la natura stessa le creature dentro di te sono molteplici e ciò che può diventare pronunciando la mia parola è la manifestazione di tutte le tue parti la tua debolezza può diventare forza se si fa legioni i cuori tremanti possono trovare coraggio nei numeri i parassiti più mise può somigliare un golia se si uniscono in un esercito e una rovina può diventare un regno per un anima resa molteplici di itori mustag ripetilo tre volte niente tu io migliore tutti i tuoi io questo questo dice una magifica che può diventare al chi하ımı da chi cadaista ma è molto qualcosa? 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 Lento uno altissimo Dov'è il topastro? Un'ultima notizazione. Oggi ci pazza, ora, o sbagliatevi. Un'ordinello scopo solo, ma insieme... qualcosa di più. Cosa ricordano di scopo, c'è ricordano di scopo, c'è ricordano di scopo in un'innocente cuore. Ma tutti ricordiamo il nome. Lathindor. C'è una persona trafondi uno dei topi, come può essere? Dobbiamo essere. Dobbiamo essere uno, lungo morto. Inoltre siamo molti, scurriando, scurriando, survivando. Siamo solo crumbi di un uomo. Nel problema di nulla, se non ci provi, lasciami in pazienza. Non faccio accordi con i topi, di solito. C'è un piacere. Nel problema di noi, ma una volta che avevano il valore, il significato, ci siamo riusciti. Non tracciati per una vita. Nel tempo, guardate la tua parola e le riveleranno a te. di un gatto. Oh, questo è un gatto. Questo è un gatto. Questo è un gatto. topi qua buchi di topi questo qua c'entra sicuramente con quella cosa di raffael e tutto ecco il problema il problema che non ho potuto parlare con quella bestia lì infernale che era molto forte ho perso l'occasione di capire sta roba qua il contratto con raffael cosa c'entra in mezzo quello è il problema di queste cose qua queste falle nell'acqua no c'è più i topi qua c'è più i topi non ci sono più i topi dove era il coso per qua qui c'è la base della leva abbiamo il manico ficchiamolo dentro e abbiamo il nostro ascensore sono curioso andiamo a parlare con raffael se c'è ancora raffael da qualche parte non penso da qualche parte dovrebbe essere vediamo se trovo raffael in giro boh sicuramente non trovo raffael in giro quindi per quella roba concludersi è conclusa un po' l'ho perso un po' così io lo troverò più avanti boh e parlerò più avanti potremmo andare a parlare con battle ma penso che non ho ancora trovato il coso quindi per lui posso ancora andare avanti vediamo qua c'erano i topi ma che parte c'erano i topi che pregavano l'altare era qui ma non è successo un gaz qui c'erano tanti topi ma i topi non hanno fatto niente qua si prendiamo lo schifo prendiamo topi qua sono tutti scomparsi andiamo a parlare con battle Zabu vediamo che cosa ci dice sto ciccio è morto quello grosso non hai perduto i tuoi nervi spero io tendo a ridurre queste miei creazioni troppo fissi adesso ti potremmo avvisarmi nel presente del nord che esegge in questo luogo potrei avere ma ho deciso non di tutto il meglio per giudere il tuo metà il teatro non è di rilevanza al mio obiettivo inoltre sembra che l'hai gestito bene non ho mai sentito quella cantata di lui niente è inutile se completamente inutile ciccio inutilissimo qua abbiamo le nostre squisitissime provviste dei ratti forma di cuore forpa pataggi imp pietra silvana schifezze infatti loro non lo usano più ma fa caccare tutto non lo so non so che caspita ci sia e non ho più la minima idea boh andiamo giù andiamo nel canto notturno vediamo che bestie ci troveremo c'è bastava super suona proprio l'ho fatta tutte poi dopo una roba in più ma facendoli tutte ho trovato la libreria abbiamo trovato la nostra cosa interessante e qui l'abbiamo fatto andiamo ah ok servivano le altre parti allora ah ok 1 2 ecco visto loro servivano sti cosi mannaggia salviamo non si sa mai facciamo disastri adesso gente facciamo disastri siamo andati alla parte finale che bello 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 tanto notturno ecco ci avvisa no 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 potrebbe no 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 si ci potrebbero non essere neanche più attive quindi qui no no quando così ci avverte la regione potrebbe cambiare tutto lì quindi quello che mi hanno anche avvisato e ci avvisa anche il gioco stesso che in base alle scelte giusta o sbagliata va a modificare tutta la parte della barba assolutamente no andiamo prima alle torri dell'alba lunare assolutamente no non voglio rischiare di perdere questo e altro andiamo a fare sta parte qua prima va dov'è sto coso cosa è questa è la parte che non ho esplorato è l'unica perché i tre generali li ho fatti fuori ho preso altrimenti per averli fatti fuori tutti vediamo cosa c'è qui intorno no l'altra parte perché è l'ultimo punto che mi serve la torre dell'alba lunare qui non ci sono stato qua pomodori marshi pomodori marshi c'è qualcosa interessante qua dentro pomodori marshi che aspetti è sto buco di gherintor è del daziario il mercato il mercato ristagni i mercati hanno fuori di catering la guerra si nervosisce lui non prenderà ciò che mi aspetta calice d'oro calice d'oro tasca tac sotto incantesimo cosa boom moneta dell'anima hai una fessura a misura di moneta nel cuore va bene prossima volta vedremo cosa succederà se sono in difficoltà metterò la moneta infernale dentro a motrici di carla che si entra fortissimo interessante i quadri via in tasca vediamo dove ci porta sta zona non ci sono già stato vedo piccole tombe un nostro amico amici sdraiati con pezzi d'ossa stavano qua si sono addormentati hanno fatto una sesta oh ragazzi una piccola sista faccio power nap basta rimasto lì per una vita eterna 225 non male sono pieno di money mi aspetta molto di più mi ha dato di più l'armatura intera di mi ha dato molto di più l'armatura intera di Gerinthorn ma quanta gente c'era che faceva power nap qua sotto che poi dopo ci sono rimasti per sempre mh pataia pietre ho detto con ogni mia guccia di sangue su da questo progetto perché cosa Gerinthorn ho ancora sganciato una singola neanche se non ha generalizzato occhiate minacciò non si è mai dovuto andarmi dalla gira anche se spiegassi di tornare avrebbe ogni diritto di fiutare quando la polvere si sarà depositata e niente soldi monetine monetine carine oh meglio di niente sinceramente meglio così che nulla quindi continuiamo il nostro viaggio verso le torri dell'albo lunare andiamo siamo pronti let's go that's far enough his thoughts invade your own probing for purchase your parasite purrs in recognition ah one blessed like myself what news true so poche nuove poche nuove dal fronte dentro invece poche nuove dal fronte dentro invece what perché uno del tuo rango di guardia quello stai tu hai pensato ai superioressa mi sono invaduto in una campagna di harpisti protetta da una chierica di selun uno del tuo rango di guardia who better to suss out is like you'll find Zarell in the audience chamber true soul she'll be wanting to hear from you that's what I call an invitation let's find Zarell and get this caravan moving praise the absolute ghoul scudo lunare ci sono le cose tradizione della morte dio della guerra oro di protezione paradino portone tanti occhi che brutto sto tizio mamma mia ecco sei brutto c'è dove sta andando perché posso entrare dalla parte di sopra anche interessante sono tante sono tante entrate diverse ma noi facciamo con calma siamo diplomatici noi entriamo normalmente entriamo dentro normalmente dalla porta principale visto che finora li abbiamo gonfiati tutti di botte dal primo all'ultimo si riesce a saltare qua c'è un commerciante guarda c'è qualche commerciante andiamo a fare soldi andiamo a fare soldi prima cosa che io invece di andare salvare vado a fare money che cast qualcosa esploso buongiorno 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 ah i gobli lottatori qui c'è lottatori andiamo a indagare dentro l'occhio dai non sto facendo schifo nenni spiudine di topo fritto supporto per torte d'argento casa d'erba un quadro il muco si è illuminato il muco ciò che si esplosca da le ponte è vivo organico qualcosa di dolce sembra si esplosca da le ponte da le ponte si esplosca a raggio bladlar c'era un brodo mhm qual è l'offerta speciale ma plainly io voglio il tuo blood un vial di true soul specificamente con un drop posso creare una potente potente per te il resto lo guardo per me e cosa ne fai con la tua parte esattamente si vai più su quello con il mio affaccio un po' Non è il sangue di anima quello che vuoi, è quello contaminato dagli Illited. Se non sono i creatori, ma solo i miei, non sarebbe un segreto di sapere. Quindi mi aggiungere la mia offerta. Il tuo sangue e il tuo silenzio. In exchange per le potie che ho menzionato, e un po' di giro in grado. Continua. Ma continuo, non posso fare altro, ma scusa, non posso scegliere altro. Se sono continuo, non posso neanche rifiutare. E... Ci siamo. Tutti i vostri migliori tratti. In una bottiglia. Usa bene. E, se posso... Hai un momento per discutere un'altra cosa più personale? La verità di diritto, ho sentito di te che sei venuto prima di arrivare. Che tipo di proposta? Non stai lavorando per casa, d'or... Non stai lavorando per casa, d'or... Non stai lavorando per casa, d'or... Della furia mezzorchesca. Vediamo. La porsalota che stai per diventare, i momenti vieni ridotti, invece uno è... Non male. Il prossimo lungo riposo, scorre il netto bene. Tutto è che vuole qualcosa che vuole stare. Cosa interessante. Molto raro. Allora, ottiene un monstroite per quello che vede contro il creatore del marchio. Il marchio da cacciato, colpo accurato, omniscienza e dardo tracciante. Mmm... Seeee... Un più... un D4. A K? non male la cappa all'anello doppio la doppio taglio carica arcana sguardo penetrante questo è forte incrucio sguardo sfera congelante otti otti che puoi scambiare per già un'esplosione gelida coprò che non sapeva essere eseguito da un altro roba forte muco di verme iena paralizzato avvelenato momento astuto roba forte lei che compra un po di roba come back ok arraj oblord should you be interested i have a with one drop i can brew a rather potent potion for you the rest i keep for myself that i cannot allow for either of us i have a project to complete and you if you can't be reasonable i'll just have to observe shop is ever ho fatto una cazzata sculto gli infedeli boh vabbè nata via no boh svegli vediamo cosa fa questo sono troppo grande Eh, forse quella era l'incontreremo a Baldur's Gate, tanto ha già dato il mio sangue, quindi... Troverò un po' più avanti. Sicuramente troverò un po' più avanti. Volontà dominata. Barnabas. Non pensavo che lo accettasse tutti così come siamo o l'assoluto? Si tratta di molti trattori per il suo design, ma è ancora il suo design. E Barnabas ha trovato il suo posto. Osserva. Barnabas, amore! Vieni e mostrivi che buon ragazzo sei! Che mi dici di un balletto? Oh, ti piacerebbe questo, non ti, Barnabas? Senti che la sua wille avvicinare e avvicinare la creatura, inesorabile come la tarda. No, Barnabas! Abbiamo parlato di questo? No, Barnabas, mi aveva già parlato. Ah, posso usare i gnoval per spaccarli? Bene quanto pensi? Mmm, potrei rivortarglielo contro... Però non subito questo rivortarglielo contro. Potrei zapparla via sta qua. Un macello! Però sembra che tu non sappia comandarlo bene quanto pensi. Lo interrompe sta qua. Suggezzo poi va bene. Suggezze proibite. Ha, approvano. No! Barnabas? Valin? No! No! Un altro parasite. Tutti tratti di ristrante è fuori. Barnabas ha piaciuto il sangue. E una volta... Ah, abbiamo preso il verbo. E il simbol gloria, il potere corrisce tra te. Oh, vuole attaccarmi a me, sto ciccio? Oh, ciccio! Ciccio! Per stasera... Vacci piano! Vacci piano! Ti ho liberato, secondo me, qui, eh! Uh, persuasione altissima io adesso. Uh, questi sono alleati adesso. Vacci piano! Io sono il tuo amico, eh! Ahahahah! Bellissimo! Se ci provavo, lo zappavo alla forte. Lo zappavo, eh! Potere Illited! Mmm, potere Illited! Facciamo una brutta fine col potere Illited! Funzionerà? Repulsione! Distorsione! Penso che per arrivare a questo, dovevo... almeno fare la parte qua sotto, secondo me. Mmm... Ma sta roba mi sa che non fa effetto... ... ... ... ... ... Cicciano Vacci piano, non trovarci con me Vabbè le cose che mi ha puntato sopra forse Suoni sospetti E' sopra eh, sopra il piano di sopra E' sopra il piano di sopra Ma che cosa? Non è il tuo ciccio? Si vaffanculo Non è mica tuo? Forse tu sei un prigioniero O no? Un prigioniero? Questo no Oh caspita, sono finito Qu'è? 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 Un gobi Stiamo in silenzio Che armatura bellissima Che armatura è bellissima Che armatura è bellissima che genera Thor Thor Sono soldati che dovrebbero essere liberati Nooo, ho sbagliato Ho fatto le cose orribili Che bella Che bella Che bella Che bella Che bella Non-believera, outside my control. What the fuck? Try again Minchia Oh, shit. Dispose of the rest as you see fit. Or better yet, put that true soul to use. You have far more important matters to attend to. Or have you forgotten? Of course not, my lord. Thank you. You heard the general. The goblins are yours. Deal with them however you wish. They are yours. You can release them, kill them, or feed them to each other for all I care. Just deal with them. Here, in the seat of the Absolute's power, your authority over them is complete. They will obey any command. Hmm. Talk to me upstairs when you're done. Please! You gotta help me! Oh, zeh! Questo è quello del mulino. Questo è quello del mulino, mi penso. Vi darò una... Vi darò una possibilità. Combattete contro di me. Morirete, oppure mi ucciderete. Siete liberi di andare. Spazio di te vuoi... Guardi libera... 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 And praise her, true soul! Oh, you exhaust me. Compassion is not a virtue. The seat of the Absolute's power. Occupied by a general that cannot be killed. Il trono del potere è da solito occupato da un generale che non può essere ucciso. Minchia, questa è dura, eh. Che succede se mi siedo sul trono? No, no, queste si incazzano. Mi siedo sul trono, loro mi arrabbiano. Bello, un bello. Minchia, ha fatto 12 di tiro. No, no. Isn't for me to question them above me. I'm sure you know your business. I'll see they get all the help they need, true soul. And they'll need quite a bit. Eventually. Of many hearts. The disciple. I'm bound for the war camp. I'm no fighter, but... Forse l'ho aiutati che non devo aiutarlo. Forse non devo tanto aiutarlo, eh. Armaiolo. Well, Flo didn't tell a lie. She said you'd find me and here you are. Carlack, isn't it? Now there's a name I hope never to hear again. What was Flo doing here? Didn't think to quiz her about her business. What the hell are you doing here, Carlack? Florenta, the Garrota. A Cambion I knew back in Avernus. She was the closest thing I had to a friend. That search, she would have choked the life out of me if I ever turned my back on her. The fact that she knows where I am, where I might be going, doesn't exactly delight me. It's dangerous. Maybe. Probably. I don't know. She's a half devil. Impossible to read. I wouldn't have given her the time of day, but even I needed a laugh once in a while. What can I say? A bitch had good jokes. Enough chatter. Your friend gave me three soul coins. Said I could sell them if I wanted. But if I kept them for you, she'd consider it a favor of me. Soul coins, huh? That could come in handy. Sure. But she did have a condition. For every coin you take, you've got to hear the story of the soul trapped inside. There you have it. Flo came all this way just to try to make me feel like shit. Clever use of her time. Memorized a bunch of sad stories on her behalf, did you? Didn't need to. Your Flo did some devil woo woo and stuck them in my head. Couldn't forget now if I wanted to. You want the coins or not? Vabbè, sentiamo. Vabbè, sentiamo. senza Keith that Baldrè. She never knew a day of love in all her life. When she was a girl of 15, she sold her soul to Tiamat in exchange for someone who would love her unconditionally. Minchia, bella storia. Sicuramente sei quello meglio di avere per quanto ha fatto Tiamat. Sicuramente sei. Questo ha la mente di un uomo chiamato Frakes. Vivo in una vicenda vicenda. No 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 no. No 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 no. Vivo con la pezzi pezzi a 1000 anni. Frakes ha chiamato per aiutare. Dio per ieri di avere carne per mangiare. Zariel ha risposto. Vivo di Frakes creare carne per carne per carne per carne. Zarian di mezzo. No no no. Minchia, bella. Carlax è quello che ha chiesto di consumire la sua mente, sento. La ultima mente ha la mente di un bambino chiamato Ongeer. 8 anni fa. Ha piaciuto giocare con gli amici. E' tutto quello che conosco. E' tutto quello? E' tutto quello. Oh, e' questa scoperta. Che roba, amicchia. Beh, sono anime. Sono le monete qua che ho. Quattro. Vedo a Carlax intanto. Il biglietto scarabocchiato era... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vediamo che c'è un po' di monete. ... 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 io ho già speso soldi let's go armatura intaccata cosa vuol dire soldato armatura intaccata dai ho consumato uno e non ho recuperato l'ispirazione beh 500 monetti in meno è tantissimo eh già so ho speccato soldi cosa vuol dire armatura intaccata avanti del tuo progetto col bug bin mercante la tua impresa qui c'era un altro rogmogmloom oh no ci siamo già incontrati l'accampamento goblin attenta sembra così sembra una minaccia davvero non hai visto proprio nulla parla per te io ho sentito un massacro quasi in prima fila erano un po' più freddo nel cuore che freddo è vero però qui però guarda tutte le mani di bambini uniti contro gli enemy dell'absoluto eh hai fatto in fretta tra la tua fede sono d'accordo siamo quasi per la mia sicurezza no ogni volta dove vado incontro questa faccio disastro commerciano eeeh e la madonna guarda quanta roba buona quanta roba bagliore solare ha cerchi di morte ok la sfera buonissimo catena di fulmini che sono incantisi in livello 5 questi danze in irresistibile di 8 pergamena di disintigrazione sprigionano sottile raggio verde dal tuo dito se i danni riducono a 0 questi si disintichano in un mucchio di cenere dominare persone globo di vulnerabilità ma che botte di magia sono wow vediamo questo aggiungi il tuo intero modificatore di destrezza alla tua classe armatura il tuo intero modificatore di destrezza minchia che trattengono non male niente di che niente di che niente di che tanto forte arma lentale draconica contro la tua arma assoffio dragonide trasmutazioni alimento alimento tua scelta bello questo non male abbastanza unico veleno virulento vulnerabile danni da veleno bello però l'anello assolutamente lo prendo l'anello 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 contrabbando entra il giro contrabbando entra nel giro l'anello l'anello è vero l'anello 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 lo prendo e questi li prenderei sono potentissimi disintegrare mille e tre però costano un botto costano veramente un botto costo che succede qua c'è festa qua dentro questo è mig caspita è mig per un momento ma si 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 è il giro l'anello ma l'anello lecce ma come un vivente che si tratta le piscine Cosa! Nelle piscine di piscine! Potremmo... Un'altra piscina! Il più vicino della cucina! Ma... Mi band... Non è permesso di farlo! più forte in cucina mi da interessante ci ha dato un indizio che aspetta ho trovato qua boh girino di mind flayer il gatto che parla scusa tu non mi ha artiglio d'acciaio due metri di scienze si chiamano girino aspetta sa che quel girono è morto vero è proprio un gatto gente è proprio un gatto e rispetto reciproco vabbè allora qua c'è il punto sulla mappa di che boh questo è il punto della mappa di che boh muro spaccato martello martello ho pensato ci fosse più robe sinceramente e qui? boh andiamo verso cucina vediamo se sono i sospetti zona qua l'ho fatto manca solo andare la zona sopra merda tutto che mi avrebbe trovato sopra che mi avrebbe trovato sopra che mi avrebbe trovato che mi avrebbe trovato che mi avrebbe trovato che mi avrebbe trovato e dovrei andare verso sopra per capire che caspita sta succedendo per capire meglio che mi avrebbe trovato che mi avrebbe trovato che mi avrebbe trovato a reclutare gli gnoll andiamo nello scantinato vediamo non è quella cosa melmosa c'entra vuoi vedere che in generale Kettering Thorn si è infuso in realtà dal suo vero corpo si è infuso con la torre prigione salviamo in caso succedano bug bug brutti prendiamo una di vita falsata vuol dire che qua ci sarà Zevlor? questo posto bruttissimo oh Dio santo cosa fare? oh Dio santo questo episodio è si parla tanto forzire delle prove ma ma ho neanche fatto in tempo fare la scelta Dio santo ecco vedi di fare le robe vabbè stendiamo basta dirmi un attimo non è che dovete stendermi giù se butto giù che succede? che succede? chi c'ha siete voi? mi state attaccando lasciatemi stare bene ma fammi tornare giù no? no era cos'era? tuono tuono danni da tuono o di forza ma ritorno su un bel guardiano della fede colpa in testa? colpa in testa? lo tiriamo? non c'è un randello che mi potenziavo col randello? no? diamo la botta in testa fallito fallito ti morire infernale ti morire infernale ma come entrare in cosa mi fa ma provo che attacchi di opportunità ok non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è ma non c'è ma non c'è non c'è non c'è non c'è Niente, NINGHERUDAIO Tecniche segrete Joestar, basta vado via perché c'è troppa gente qua Via 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 via, fuggiamo, fuggiamo Fuggi dal combattimento, mezz'ora, un'ora solo per queste cose qua L'AIDS riesce a sfuggire? Boh Non lo so Non lo so Vediamo se faccio fuggire anche l'AIDS e devo ripolpare tutta la fila Dopo un'ora di fight eccoci qua, l'AIDS è andata in prigione E i miei si sono salvati la, quindi mi è morto solo Will E quindi, meno male, non è nessuno stile di me Adesso se lo devo ritornare e spaccare il muro di nuovo a tutti poi, no? Ok 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 Ok